L'attesa sta per finire, come vedete alle mie spalle il professore Saviano è già al lavoro per organizzare tutto perché domani finalmente ci sarà il taglio del nastro qui a Parco Manganelli per la ventunesima edizione di Sport Days. È tutto pronto, si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli per questa manifestazione attesissima, quest'anno ancora di più perché sarà davvero un piccolo ritorno alla normalità, Sport Days torna nella sua location all'aperto qui a Parco Santo Spirito, insomma il polmone verde cittadino che ospiterà tutte le attività sportive promosse dal CONI ma non solo, ci sarà spazio anche per la cultura e per l'intrattenimento. Noi di Sport Channel dalle 17 alle 18 e 20 ogni giorno da lunedì al sabato vi mostreremo in diretta quello che succederà proprio qui. Ovviamente l'invito però è a partecipare attivamente per venire a vedere tutti gli sport promossi. Si parte domani con il saluto delle autorità, a partire dalle 17 ci sarà qui il raduno di tutti i partecipanti. Come dicevo dopo i saluti ufficiali ci sarà alle 18 e 45 l'inizio della manifestazione. Adesso vi portiamo proprio a vedere dove si svolgeranno tecnicamente tutte le attività e quali saranno gli sport messi a disposizione da Sport Days. La location è invitante, bella come sempre, spaziosa quindi ci sarà veramente tempo e modo per provare tutti gli sport. Sarà l'occasione anche, come diceva il professore Saviano, di portare qui i più piccoli per avvicinarli al mondo dello sport e sarà fondamentale dopo due anni di pandemia in cui i nostri ragazzi sono stati in casa. Sarà una rinascita per Parco Manganelli, per la città ed anche per il mondo dello sport per cui l'invito è di arrivare in tanti dal primo al 21 giugno. Chi non potrà esserci potrà vedere in televisione sugli schemi di Sport Channel tutto quello che accadrà. Come vedete anche qui alle mie spalle all'anfiteatro ci saranno tantissime attività, ne ricordo solo alcune, il taekwondo, la danza, il pugilato, ci sarà spazio davvero per tutti gli sportivi. Dunque appuntamento a Parco Manganelli, il taglio del nastro ci sarà domani.